Anche la provincia di Salerno finirà nella morsa del gelo. L'incursione polare che coinvolgerà l'Italia in particolare porterà ad un abbassamento delle temperature e a nevicate anche a quote di pianura che potrebbero determinare disagi per la popolazione. Il picco è previsto per domani, giovedì 3 gennaio, quando il cielo sarà irregolarmente nuvoloso e saranno più che possibili fenomeni nevosi a quote inizialmente superiori a 500 metri, ma con quota neve in progressiva diminuzione, tanto che in serata vi sarà possibilità di locali nevicate anche a livello del mare, dove però non si registreranno accumuli al suolo significativi. I venti spireranno dai quadranti settentrionali. La protezione civile ha dinamato una nota nella quale si invita a prestare attenzione ai bollettini meteo e agli avvisi che saranno via via inviati dalla sala operativa regionale, invitando allo stesso tempo gli enti ad attuare per tempo il piano di protezione civile in ordine a rischio neve.